Siamo abbastanza emozionati, almeno noi tre che siamo qua, per questi dieci anni della nostra attività. La vicinanza alle famiglie e ai malati, una parola, un pensiero, un messaggio, un aiuto sia anche il fondamentale del percorso della guarigione e della malattia. È una missione che deve essere di esempio a tutti, ecco perché la vostra missione aiuta tutti a star meglio. Grazie Ignazio, grazie Gloria per avermi coinvolto, è solo un piacere averti e quindi lo facciamo con il messo piacere. L'immensa solidarietà che io ho riscontrato intorno a Gazzini è veramente un qualche cosa di commovente. Porto dei piccoli è come un figlio che è cresciuto sano e robusto. D'altra parte un bambino nasce sano e robusto quando viene seguito con attenzione, con amore da una mamma che è affettosa, una mamma che è rivolvera. Ebbene, anche il porto dei piccoli ha avuto una mamma, Gloria Capurati, che ha dato tutta se stessa e anche qualcosa di più, e questo penso che sia la ragione principale per cui è cresciuta con se bene. Il porto dei piccoli va anche a tutte le famiglie che hanno condiviso con noi questo viaggio, ai bambini che ci hanno donato la loro spensieratezza, il loro amore, il loro affetto e ai loro genitori appunto che hanno condiviso con noi momenti belli e momenti tristi. Finalmente ci era stato permesso di fare qualcosa di speciale che invece a tutte e altre persone normali non era possibile fare. Quindi volevo ringraziare anche io il porto dei piccoli e tutte le associazioni enti che hanno sempre permesso queste bellissime esplorazioni, che hanno reso tanta felicità a noi e ai nostri bambini. La donna è una malattia che noi non conosciamo, che ha questa caratteristica di contagiare con il suo entusiasmo tutti quelli che incontra, anche quando si tratta di persone che magari in prima battuta sono un po' tiepide. Mi è con piacere che accettate ogni vita che ci vede fatto, perché penso che sia un obbligo per noi, per dire grazie con cuore e a gloria, per quello che sai, io lo chiamo un fuoco, è un fuoco, è un fuoco, per me è una forza della natura. Sono entrati in punta di piedi per cercare di capire e sono entrati in pochissimo tempo in sintonia con noi, con i nostri operatori e adesso fanno parte del team e quindi la loro presenza arricchisce veramente tutti i giorni quello che faticosamente portiamo avanti.